Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema della mancanza di rete wifi che ovviamente quando accendete il pc la connessione di rete wifi qua sotto si toglie o si disattiva da sola oppure è un driver obsoleto quindi in questo tutorial ti spiegherò anche come aggiornare questo dispositivo però prima di fare questo ti consiglio di andare un attimo su cmd quindi tu scrivi cmd sulla barra della ricerca di windows tasto destro sopra e segui come amministratore una volta fatto andiamo a resettare la nostra rete wifi quindi in questo caso vai a scrivere direttamente ipconfig spazio slash rush dns cache del resolve dns svuotata una volta fatto vai a scrivere netsh winsock reset reimpostazioni catalogo winsock completata è necessario avviare il computer adesso voi chiudete qua riavviate il vostro sistema operativo andiamo in gestione dispositivi ed eccole qua le nostre schede di rete ovviamente io ho la scheda di rete che io ovviamente uso il cavo LAN quindi realtech pc e questo qua e l'ho disabilitato per farvi vedere che la mia connessione di rete wifi funziona ovviamente se c'è una freccia in basso come questo tu devi solamente abilitare questo dispositivo però puoi sempre fare direttamente disinstalla dispositivo riavvia il tuo sistema e automaticamente si reinstallerà di nuovo questo dispositivo e potrai abilitarlo poi riguardo all'aggiornamento del dispositivo come ti ho detto tu basta che fai aggiorna driver cerca i driver nel computer ed eccoci qua fermiamoci qui basta fermiamoci qui cancello un attimo questo percorso file e vado a scaricare un programma che si chiama driver easy in passato avevo realizzato una guida su come aggiornare tutti i driver del pc ovviamente se io adesso vado a scrivere driver easy vado a scaricare così l'aggiornamento per questo realtech pc quindi faccio aggiorna sempre se me lo da perché io avevo già fatto un aggiornamento in passato e no non me lo da quindi in questo caso ti farò un esempio allora facciamo un esempio realtech audio universal questo di 9 megabyte questo qua realtech hardware support application quindi facciamo caso che questo dispositivo si chiama realtech pc questo qua la connessione di rete wifi quindi in questo caso tu dovresti trovare il tuo driver da aggiornare qua dentro trovi il tuo driver io vado a scaricare il mio driver vado a cliccare su aggiorna crea manualmente faccio continua scarica così il driver installa manualmente faccio continua una volta installato questo mio driver da mettere sulla rete clicco qua sopra faccio copia vado su aggiorna driver e lo incollo qua incollo così il percorso dell'aggiornamento nel suo dispositivo fatto se non hai capito riguarda questa parte e fai avanti e aggiornerai così il tuo dispositivo questo driver easy funziona con tutti i dispositivi anche scheda video processore tutti i programmi anche con il controller l'audio monitor qualsiasi cosa la stella mouse tutto e aggiornerai veramente tutto quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao